Il mondo dei centri commerciali oggi protesta contro le chiusure imposte a livello nazionale nel fine settimane prefestivi che consentono a negozi fuori dai centri commerciali appunto di stare aperti mentre quelli all'interno devono restare chiusi, fatta eccezione per supermercati e librerie ad esempio. All'Aquila il centro commerciale d'Aquilone è aderito abbassando le serrande dei propri negozi per qualche minuto in forma simbolica, collino nazionale un messaggio in filo di fusione che ha illustrato le motivazioni della protesta ai clienti. La direttrice dell'Aquilone Valentina Bianchi spiega che questa decisione di non consentire la riapertura dei negozi interni al centro commerciale va rivista al più presto, qui ci sono oltre 500 dipendenti più l'indotto che è notevole. La manifestazione di oggi chiudiamo perché vogliamo aprire e questo è il messaggio che vogliamo dare, sono maturi i tempi perché la restrizione della chiusura del fine settimana venga eliminata. A parlare, a dare voce con questa manifestazione a 800 mila lavoratori, a 36 mila imprese commerciali, a 1300 strutture integrate, è proprio questa esigenza e questo che vogliamo ribadire oggi. Noi siamo rimasti inspiegabilmente esclusi dal provvedimento, dal decreto del 22 aprile e quindi riteniamo che adesso almeno con il secondo provvedimento questo possa invece realizzarsi. Dietro alla protesta a livello nazionale invece ci sono 780 mila lavoratori che chiedono l'immediata revoca delle misure restrittive che da oltre sei mesi impongono la chiusura dei negozi nei festivi e prefestivi, i giorni più importanti però della settimana in termini di ricavi e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali.